buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è mercoledì 29 maggio 2024 tanta tanta cronaca e tanta politica siamo in caldo clima elettorale quindi ci sono molte molte notizie oggi ma a parte la politica si è sommata anche tanta cronaca per cui ci sono tante tante novità oggi leggendo i quotidiani ma come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ed è una persona molto cara che molti di noi hanno conosciuto ovvero san paolo sesto al secolo giovanni battista montini fu eletto papa nelle conclave del giugno del 1963 successore di giovanni e ventitresimo il papa del concilio ebbene montini stesso portò a termine il concilio vaticano secondo applicando poi tutte quelle innovazioni anche nella liturgia della chiesa che il concilio aveva approvato fu lui che sostituì il l'italiano al latino durante la messa ma fu un grande evangelizzatore fece il primo pellegrinaggio in terra santa che destò grande sensazione allora aprì il dialogo con la chiesa d'oriente lavorò alacremente per la pace e l'unità dei cristiani fu veramente un grande papa magari un po riservato rispetto alla cordialità l'apertura del suo predecessore e anche dei suoi successori ma fu veramente un papa che visse intensamente anche dal punto di vista suo personale il suo ministero ed ora passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica ci dimostra come il tempo sia tratto instabile oggi su tutta la regione con piogge e aree e con piogge verso le aree centro meridionali i venti saranno deboli localmente moderati con una tensione di ovest nord ovest sulle coste mentre da ovest sud ovest nell'entroterra e le massime toccheranno i 25 e 24 gradi la minima si attesta sui 14 nella provincia di peso rumino mentre un pochino più alta nelle province del sud e delle marche 16 in ancona 15 fermo mentre ancora più giù va ad ascoli piceno che tocca i tre dove tocca i 13 gradi e il sole il sole sorge anzi è sorto alle 5 e 30 e tramonterà alle 20 e 39 ed ora passiamo alle notizie passiamo alle notizie in fretta abbiamo sulla nostra scrivania il corriere adriatico dove vediamo subito il dibattito politico che si è svolto nella giornata di ieri fulcro più importante è stato quello della sanità c'è stato un dibattito molto acceso tra il centro sinistra e il centro destra per quanto riguarda la sanità la prima conferenza stampa l'ha convocata il partito democratico presentando il suo segretario Renato Claudio Minardi il candidato sindaco di tutto il centro sinistra cristian fanesi ed il candidato al prossimo consiglio comunale Cesare Magalotti il direttore il primario del reparto di senologia dell'ospedale Santa Croce e vivendo la situazione dal di dentro la situazione sanitaria dal di dentro il dottore ha veramente così comunicato tutta una serie veramente grave di problemi che incombono sul nostro ospedale ospedale in declino non si lavora bene ha detto io stesso fatico quando devo tornare a lavorare non perché mi pesa il mio lavoro un lavoro che io amo ha detto Magalotti che faccio compassione ma per le condizioni in cui sono costretto a farlo duro atto d'accusa di Magalotti e del partito democratico il direttore di senologia denuncia tagli e fuga di medici ebbene la fuga dei medici modo particolare i sei anestesisti che si sono licenziati tutti insieme nei giorni scorsi dall'azienda sanitaria territoriale di Pesa Lormino ha determinato effetti anche nella possibilità di fare gli interventi chirurgici e quindi l'apertura delle camere operatorie tra breve un turno sarà abolito da luglio poi altre tre camere operatorie saranno chiuse e di questo ovviamente ne risentiranno tutti gli appuntamenti le lunghe liste di attesa che già sono lunghe ma si ma che si dilungheranno ancora di più Fanesi dice Ser Filippi è un ostaggio di Baldelli e proprio l'assessore Baldelli insieme a Ser Filippi ha replicato ieri magari non sapendo quello che veniva detto nella conferenza stampa le due conferenze si sono susseguite nel margine di due o tre ore insomma di poco tempo ebbene il centrodestra con Baldelli e con Ser Filippi invece ha espresso tutto quello che si sta facendo per migliorare la situazione sanitaria al Santa Croce soprattutto si è parlato della nuova palazzina emergenza urgenza i cui tempi per la sua realizzazione sembrano accorciarsi ebbene che cosa ha detto Baldelli ha detto che all'interno di questa palazzina vi saranno il pronto soccorso l'osservazione breve intensiva con dieci posti letto la diagnostica per immagini dedicata la medicina d'urgenza la terapia intensiva e subintensiva l'unità di terapia intensiva coronarica e il blocco operatorio con quattro sale e per quanto riguarda i tempi ha detto che entro il 29 giugno arriverà dalla ditta il progetto esecutivo per la realizzazione di questa palazzina che verrà completata entro il mese di giugno del 2025 ci verranno quindi due anni perché questa palazzina possa essere nelle condizioni di operare e ci saranno fino a dieci posti letto cinque appartamenti funzionali invece per quanto riguarda l'ospice pediatrico che è un'altra grande realizzazione che la regione intende realizzare appunto nella città di Fano dieci posti letto cinque appartamenti funzionali dedicati alle famiglie perché poi questi bambini che sono all'ospedale hanno bisogno della vicinanza delle loro famiglie e sono famiglie che giungeranno anche da fuori regione da altre località italiane e quindi hanno bisogno anche di un alloggio nella città di Fano un ambiente di vita confortevole e rasserenante sono previste anche tre camere singole per il sollievo un'area per la riabilitazione respiratoria insieme ad una ludoteca una biblioteca una stanza per il soggiorno un'area giochi e uno spazio verde questo è un po' quello che si delinea per il nuovo ospice che dovrebbe sorgere al posto dell'ospedaletto pediatrico di via tazzoli vediamo ora la cronaca abbiamo detto che c'è molta cronaca oggi sui giornali cominciamo con questo titolo di apertura della seconda pagina del corriere adriatico vi ricordate i casi dell'abuso che aveva visto protagonista un istruttore di tennis che operava nel circolo tennis della trave ebbene abusi sugli allievi di tennis condannatelo a sei anni e la richiesta del pm napolillo nei confronti di un giovane si tratta di un giovane di origini extra comunitarie si tratta di yuan un americano del sud che lavorava un istruttore argentino che lavorava appunto a fano ma anche in altre località a pesaro per esempio maestro di tennis accusato di atti sessuali su alcuni allievi minorenni ieri il pubblico ministero ha chiesto la condanna più di sei anni di carcere adesso è inutile che vi illustro i particolari che sono descritti in questo articolo ma sono piuttosto significativi e poi abbiamo una bella azione condotta dalle forze dell'ordine per quanto riguarda lo spaccio della droga spacciatore sperona due volanti ma è stato arrestato cercava di sottrarsi al controllo con 65 grammi di droga ecco qua l'articolo a fondo pagina arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza al pubblico ufficiale un 23enne albanese che della mattinata di lunedì scorso ha cercato di aprirsi una via di fuga speronando andando a sbattere proprio contro due volanti delle pattuglie della polizia che stavano controllando gli agenti hanno riportato delle lesioni e il personale medico del pronto soccorso ha considerato appunto queste lesioni guaribili in qualche giorno insomma non sono molto gravi ecco questo è quello che appare l'arresto comunque è stato convalidato ieri durante l'udienza per direttissima davanti al tribunale di pesaro e vediamo anche come il resto del carlino pubblica la notizia lo pone addirittura in apertura sulla prima pagina sperona due volanti e poi tenta la fuga preso un pasch pusher di cocaina già venduti treetti aveva 5 grammi addosso altri 60 li teneva nascosti a casa nei guai appunto si è mostrato un baldanzoso 23enne albanese sequestrati 1300 euro in contanti considerati probabilmente spaccio di droga e poi un'altra notizia accoltellò il padre adottivo i periti però lo hanno considerato incapace di intendere il fatto avvenne il 13 febbraio scorso a santosso incapace di intendere di volere al momento del fatto e quanto indicato dal perito il dottor leonardo badioli nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto ieri nei confronti di tommaso niccoli claudi 21 anni accusato di tentato omicidio perché durante una lite familiare aveva tentato di accoltellare il padre adottivo il compagno della madre e il compagno della madre il giovane aveva sferrato più colpi utilizzando un coltello e ferendolo alla testa e in altri parti del corpo aveva provocato anche delle ferite delle ferite profonde ieri in tribunale dunque si è rievocata la vicenda e poi purtroppo un lutto trovato morto nella sua casa francesco k2 ex componente della musica arabita aveva 79 anni lo chiamavano k2 perché prima dei social combatteva la solitudine intessendo conversazioni con il cibi con il baracchino così si chiamava allora ora invece era passato a facebook dove lo conoscevano tutti perché passava il tempo a postare nei vari gruppi di fano le foto dei problemi della sassonia insomma era uno che andava a cercare i problemi che esistevano e poi poneva alla ribalta in modo che fossero risolti era un personaggio molto molto simpatico per questo amato anche dai suoi dai suoi amici dai suoi conoscenti e poi abbiamo un fatto emblematico che il resto del carlino ci pone a centro pagina è la denuncia di una mamma la denuncia di una mamma che aveva così protestato perché le spese per il trasporto del figlio disabile questo problema che non riguarda solo lei riguarda un po tutte le famiglie che hanno purtroppo questo problema per avere dei contributi si calcolava l'ise non sul reddito del disabile ma sul reddito di tutta la famiglia e questo non veniva considerato giusto è stato fatto un ricorso al tar e il tar ha dato ragione alle famiglie cioè il contributo viene relazionato in base all'ise non della famiglia sono diversi componenti della famiglia che possono fare aumentare il reddito ma sul reddito conseguito appunto dal figlio disabile e questa è una battaglia che è stata vinta e condotta da questa mamma e la vediamo qua si tratta di francesca sorcinelli la vediamo qua in questa fotografia che tra l'altro è candidata nella lista di fratelli d'italia la quale ha riaffermato il diritto dei disabili a non essere discriminati finanziariamente per i servizi di cui necessitano poi vediamo ancora altre notizie di cronaca intanto sfogliamo il corriere adriatico torniamo a sfogliare il corriere adriatico e vediamo il resoconto di una riunione che si è svolta a san lazaro in merito alla destinazione dell'area dell'ex zuccherificio piano regolatore generale è un blitz inaccettabile raccolte 500 firme contro il disegno di realizzarvi un polo logistico altre 60 firme sono state le ultime che sono aggiunte quelle precedenti che sono state raccolte una critica senza quartiere all'ipotesi di questa destinazione di un'area che versa ormai in degrado da circa una trentina di anni lunedì sera durante la prima assemblea organizzata nella sala parocchiale di san lazaro sono insorti i residenti appunto della zona industriale di ponte metauro e soprattutto sono insorti anche alcuni esponenti del consiglio comunale che sta per scadere la ex capogruppo del partito democratico agnese giacomoni che si è dissociata dalle decisioni del suo partito e poi è intervenuto anche francesco panaroni del gruppo dei 5 stelle entrambi contraria alla soluzione del polo logistico ed ora passiamo alla all'entroterra all'entroterra per modo di dire perché poi nella pagina della val cesano si parla di marotta che non è nell'entroterra ovviamente e vediamo come si parli di una manifestazione le memorie sul mare di ivan graziani evocati dagli amici degli anni 80 dopo il festival sopravento di fano con la pesce di martino sono andati a marotta hanno fatto visita al circolo el croc di marotta ebbene e hanno rievocato l'atmosfera di quello che aveva così portato alla ribalta ivan graziani e dopo il festival di fano con il figlio filippo il figlio dell'artista hanno rivissuto emozioni e ricordi nel litorale vediamo che anche è prossima un'altra manifestazione si tratta del brodetto domani dovrebbe iniziare questa manifestazione gare delle zuppe chi vincerà otto regioni quattro giudici e una giuria popolare per una sfida gustosissima nella nel lungomare del lido e beh ci sarà veramente una bella manifestazione per tutto il fine settimana e allora giriamo le pagine che parlano del brodetto passiamo a senigallia dove si parla della stazione ferroviaria di senigallia stazione che appare in degrado ci sono diverse cose che non vanno trascuratezza problemi di deterioramento una stazione horror così viene definita dal corriere adriatico il comune deve correre ai ripari servono più controlli e nuove telecamere c'è anche una dichiarazione del sindaco olivetti che dice quella che vigila sui binari e sulle banchine della stazione è una telecamera obsoleta tutte quelle che non sono più funzionanti saranno sostituite e saranno anche aggiustate quelle che potranno essere riparate sono importanti perché saranno un deterrente per garantire una maggiore sicurezza per cui si chiede anche di aumentare i controlli e qua vediamo quello che accade nella stazione di senigallia sono un po' anche problemi che si ripetono anche in altre stazioni qui abbiamo un ubriaco che è steso per terra insomma è in preda ai fumi dell'alcol e poi si è parlato anche ancora del divieto di fumo in spiaggia ebbene questo divieto deve attendere perché ancora non è stato assunto in maniera obbligatoria stop in consiglio prima bisogna fare degli approfondimenti la proposta dunque che è raggiunta in consiglio comunale torna in commissione Campagnolo dice meglio lasciare la libertà di scelta ai concessionari e beh questo è quanto appunto si profila per questa nuova iniziativa e vediamo ora la pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata vediamo un attimo dove l'apertura è dedicata all'autovelox eccolo qua autovelox nel dubbio si sanziona ebbene l'autovelox è oggetto di nuove disposizioni sono giunte dal governo ma lo sappiamo Salvini ha adotto innovazioni per quanto riguarda la funzionalità di questo strumento e qua ci sono delle prese di posizioni che provengono da diverse località abbiamo qui l'assessore di Pesaro Enzo Belloni che dice che sono i residenti a chiedere gli autovelox dopo incidenti gravi questo un po' in tutto il territorio per quanto riguarda Fano interviene invece la comandante della polizia locale a Narita Montagna invece a Pian del Bruscolo il sindaco Palmiro Ucchielli eccolo qua nella foto per Cagli il sindaco Alberto Alessandri mentre per la provincia interviene il comandante della polizia provinciale Fabio Mengucci eccolo qua nella sua foto che cosa accade? accade che al momento gli autovelox lo sappiamo sono spenti attendono di essere omologati però sono stati importanti forse avranno generato diverse proteste per coloro che sono incappati in questi sistemi di controllo però per esempio a Metauriglia hanno ridotto il numero degli incidenti hanno limitato la velocità appunto dei mezzi motorizzati siamo in conclusione vediamo un attimo di accelerare le notizie questa è bella moneta rubata al museo di Iveriano ritorna a Pesaro a 46 anni del furto è stata rintracciata in America raffigura l'imperatore Traiano ritrovata in una casa d'aste di Filadelfia quindi una bella iniziativa che ritorna per quanto riguarda i nostri beni culturali e poi un intervento di eccezione è stato eseguito all'ospedale di Pesaro eseguito nella notte un prelievo di cuore è arrivato a destinazione ancora battente per la prima volta utilizzato il dispositivo OCS Earth che permette di irrorare l'organo irrorare con il sangue e quindi salvare una vita e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto e a risentirci